13 tipologie di birre industriali spacciate per artigianali. Il consumatore era così convinto di acquistare una bevanda prodotta in quantitativi limitati e con metodi manuali. La frode delle false birre nella grande distribuzione organizzata è stata smascherata dal corpo forestale di Pesaro e Rubino. Le indagini invece coordinate dalla Procura della Repubblica, del capoluogo, hanno portato all'emissione di un decreto di sequestro preventivo da parte del giudice per le indagini preliminari su oltre un milione di etichette fraudolente che sarebbero state apposte con probabilità su birre industriali in vendita su tutto il territorio nazionale e anche all'estero. La forestale ha precisato che i prodotti commercializzati sono genuini e non pericolosi. La grande distribuzione organizzata non è coinvolta ma la condotta dei produttori e dei confezionatori delle etichette non solo è una pubblicità ingannevole e concorrenza sleale ma integra il reato di frode nell'esercizio del commercio che prevede la pena della reclusione o della multa per chi consegna all'acquirente una cosa per origine, provenienza o qualità diversa da quella pattuita o dichiarata. Intanto continua la campagna di controllo da parte del corpo che ha posto finora sotto la lente di ingrandimento una trentina di birre artigianali prevedendo possibili ulteriori sanzioni anche di carattere amministrativo per l'uso illecito della denominazione di vendita di birra artigianale.